Allora, tre minuti realizzati qua a Ovada, qui nel comune di Ovada con il signor sindaco Paolo Lantero. Allora, questo Gierino, cosa succede e che situazione ci siamo? Il Gierino di per sé, la struttura è ancora aperta, il problema è grossissimo e viene chiaramente focalizzato sulla mancanza di funzionalità delle nostre piscine, della nostra piscina. Una questione che abbiamo già affrontato in diverse occasioni, anche con i genitori della squadra che segue il nuoto ovadese. I fatti sono lì, di fronte agli occhi di tutti. Oggettivamente la Servizi Sportivi, che è il gestore e anche attualmente l'associazione che aveva costruito la piscina, è in grandissima difficoltà finanziaria. La crescita impressionante dei costi di quelli che è l'energia, sia essa erogata attraverso l'energia elettrica o il gas, ha messo in gravissima difficoltà, ancorché già non vi fosse la Servizi Sportivi. Allora io ho avuto un'assenanazione da parecchie famiglie qua a Ovada e volevano fare una dimostranza qua davanti al Comune con tutte le famiglie per dire noi ci siamo, vogliamo che il Gierino venga riaperto. Ma gli è stato vietato. Allora alcuni pensano che non gli è stato permesso dal Comune questo, altri invece mi hanno detto che lasciate perdere, meglio non fate niente. Partirei dal fatto che io non sapevo di questa intenzione, ma credo che quando qualcuno voglia manifestare qualunque tipo di sentimento, per adesso in Italia essendoci ancora democrazia, penso non cambierà, e soprattutto lo spazio per rappresentare le proprie stanze benvenga a qualunque tipo di manifestazione. Per non scomodare tutte le famiglie a venire qua, che adesso fa freddo, diamo una speranza oppure diamo un appuntamento a queste famiglie per dire ne stiamo parlando, ne riparleremo. La piscina ha bisogno di essere riparata, quindi bisogna trovare diverse centinaia di migliaia di euro per riparare il danno dell'alluvione, che ancora oggi non è riparato, e poi naturalmente bisogna fare i conti reali con i costi. È un lavoro in cammino. Con questo, se qualcuno ha voglia di approfondimenti, di vederci, eccetera, la mia pienissima disponibilità, come sempre. Intanto urlare non significa niente, risolvere è molto importante. Con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti. Grazie Paolo. Grazie a tutti e arrivederci.